Sì ragazzi, la parte 3 inizia con la novità 2021 di Villa Bartolomea Arrivata proprio adesso il Ranger Project X Noi abbiamo il camion con la cassa E qui abbiamo la giostra in sé Guardate un pochino l'interno E questo è il davanti È arrivata pure la cassa degli autoscontri di 7 e li hanno alzati Gli autoscontri li hanno quasi finiti di montare Per di qua hanno montato tutto, anche il playground, tutti gli autoscontri Qui ci sono i calci in culo e hanno smesso di continuare a montarli E sta iniziando il montaggio della giostra aerei Qui i mini autoscontri montati E qui abbiamo il manifesto di Luna Park 2021 Lì in fondo stanno togliendo il camion al Project X Novità 2021 Ecco qui tutti i mini autoscontri E lì c'è il playground E la pesca dei cigni Questa è la cassa degli autoscontri di 7 E questa è la novità 2021 Project X Come abbiamo potuto vedere prima Questo qua è il camion che porta la cassa del Project X Che poi per chi non ha capito sarebbe il Ranger Ultimo clip che ho registrato, sono passate un po' di ore Si è fatto quasi buio Qui abbiamo il World Disney Quello che avevamo visto all'inizio, tutto smontato, messo qui E adesso è montato E anche il Ranger L'abbiamo L'abbiamo quasi finito Perché si ho aiutato a montarlo Perché mi hanno chiesto insieme a mio amico Se potevamo aiutarli In cambio di gettoni E noi abbiamo accettato Ecco qui Passiamo alle giostre più interessanti Qui siamo arrivati alla giostra di Top Gun Alla fine hanno sistemato un po' di roba Ma non è che hanno iniziato a montare E noi abbiamo il camion che da qui si è spostato in lì Ecco qui tutto Ecco qui il camion del Top Gun E qui abbiamo i calci ancora da finire di montare Ecco i camion Qui abbiamo il camion degli autoscontri di 7 E qui gli autoscontri di 7 montati Però mancano ancora le macchine La giostra più adrenalinica di quest'anno E' il Ranger 360 gradi Famiglia Casa Grande I Project X E come vi dicevo Io e mio amico abbiamo partecipato al montaggio E anche domani continuiamo Perché non è ancora del tutto montato Però Abbiamo fatto anche nella nostra parte Infatti verremo ricambiati con dei gettoni Qui abbiamo la cassa del Project X Che ancora deve essere messa in posizione Guardate che bello E' ancora tutto da aprire però Ecco E infine dire dietro Aspettate che andiamo più là Durante il montaggio ho creato tutta una sorta di protezione Per non far andare le macchine Contro la giostra Per far notare che c'è la giostra Per far ripassare su questo lato della strada Ed ecco qui l'uscita Che ancora doveva essere montata Infatti lo faremo domani Qui abbiamo il salto salto E il playground Davanti al Project X Vi dico che la parte 3 è finita Adesso la parte 4 sarà Già aperte E niente Ciao a tutti Ciao a tutti